È ora di fotografare i capi. Grazie a tutti. 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 Devo far saltare il pick-up o fuggirà. Merda, se ne vanno. Devo fermarli. Sei mio. Dove mi riparo? 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 Dove mi riparo Rosche чемpione Dove mi riparo? Scopritemi! Dopo la scossa! 重要! Scopcatemi! Coprittemi! Arriba! Coltifimi! Scompasso! Scompasso! Oh Cristo! Cripto! Copertura! Vietà! Rapportura! Vietà! 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 Iietà! Vietà! Vietà! non posso morire 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 non mi piace per niente devo andarmene da qui non mi piace 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 Grazie a tutti.